Per la prima celebrazione del suo viaggio in Polonia, Papa Francesco ha voluto raggiungere il santuario mariano di Censtochowa e unirsi ai 4 milioni di pellegrini che ogni anno visitano quello che San Giovanni Paolo II ha definito il santuario della nazione. Dopo il giro in Papa Mobile tra i 500.000 fedeli uniti per la celebrazione del 1050esimo anniversario del battesimo della Polonia, il Papa è entrato nelle mura del monastero di Asnagura, il Monte Chiaro, roccaforte della fede e dello spirito nazionale dei polacchi. Qui nella cappella della Madonna Nera ha assistito l'esposizione dell'icona della Madre di Dio, così chiamata per la carnagione scura. Dopo una preghiera silenziosa ha offerto una rosa d'oro alla Vergine Maria, come prima di lui il beato Paolo VI, San Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Nell'Omelia il Pontefice ha commentato il brano del Vangelo delle Nozze di Cana e l'acqua cambiata in vino, il primo dei segni compiuti da Gesù, non un gesto eclatante davanti alla folla ma un miracolo semplice. Eppure è un grande segno, ha detto il Papa, perché ci rivela il volto di un Dio che si mette a tavola con noi, che compie la comunione con noi, che non mantiene le distanze ma è vicino e concreto, sta in mezzo a noi e si prende cura di noi, senza decidere al posto nostro e senza occuparsi di questioni di potere. Essere attratti dalla potenza, dalla grandezza e dalla visibilità è tragicamente umano, ha proseguito Francesco, ed è una grande tentazione che cerca di insinuarsi ovunque. Donarsi agli altri, azzerando le distanze, questo è squisitamente divino. Dio ci salva dunque facendosi piccolo, vicino e concreto, piccolo come le tante persone semplici e testimoni del suo amore, e vicino come deve esserlo alla Chiesa, chiamata ad ascoltare e farsi prossima, condividendo gioie e fatiche della gente, trasmettendo il Vangelo per positiva irradiazione attraverso la trasparenza della vita. È concreto perché si fa carne e nasce da una madre, icona di piccolezza nella sua amiltà, della vicinanza nel suo aiutare il popolo polacco a superare nell'unità i tanti momenti di difficoltà, e della concretezza dimostrata a Cana, prendendosi a cuore i problemi e intervenendo. A lei, la madre di Dio, ha concluso il Papa, chiediamo la grazia di fare nostra la sua sensibilità, la sua fantasia nel servire chi è nel bisogno, la bellezza di spendere la vita per gli altri.